salve a tutti ragazzi bentornati ad un nuovo appuntamento con special program in versione spectrum 48k oggi vedremo il numero 54 uscito nelle edicole italiane nel maggio 1989 vi ricordo che la rubrica si compone anche della controparte dedicata al commodore 64 di cui si occupa roberto piredda che potete seguire ogni lunedì in diretta live a partire dalle 22 su uno dei nostri tre canali facebook youtube e twitch e partiamo con il primo dei giochi in elenco sea power che in originale trovate con il nome di nevi moves quella che ora vi proponiamo è una battaglia all'ultimo sangue che dovrete disputare a bordo di un sottomarino perlustrando i 12 scompartimenti che compongono il sottomarino stesso dovrai cercare e trovare degli oggetti nascosti in esso la cosa non è molto facile e i nemici che incontrerai sono assai agguerriti e non ti daranno tregua usa come si deve il tuo potente fucile al laser cercando d'altro canto di non sperperare munizioni che come ben sai non sono infinite bene perlustra le varie zone della terra della morte sino ad arrivare nella dodicesima stanza al reattore nucleare fai questo e il mondo sarà salvo dall'imminente catastrofe nucleare nucleare fai questo e il mondo è un po' di più grazie a tutti grazie a tutti pubblicato nel 1988 da Dynamic Software venne rilasciato anche per Commodore 64 Amstrad CPC ed MSX passiamo al secondo dei giochi in elenco Fast Legs che in originale trovate con il nome di Street Soccer Per la strada no, non è il programma televisivo trasmesso da una grande rete privata ma una vincente partita di football giocata sul duro asfalto di una metropoli visto e considerato che di campi da pallone ce ne sono ben pochi i nostri amici hanno quindi pensato bene di trascorrere il loro tempo libero disputando questo match tra auto in sosta utilizzando porte fittizie che lasciano il tempo che trovano comunque il gioco si svolge come una partita di calcio vera e propria senza un arbitro e i falli laterali visto che non esistono linee di bordo campo cercate di essere agili e arguti nello stesso tempo e attenti all'asfalto è molto duro Grazie a tutti 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 Pubblicato nel 1988 da MarTech Games venne rilasciato anche in versione Commodore 64 e Amstrad CPC Passiamo al quarto dei giochi in elenco Robin 2 e qui abbiamo la versione Spectrum di Batman The Caped Crusader Robin è stato catturato dai nemici di Batman e quindi devi aiutare l'uomo pipistrello a recuperare il suo fedele compagno d'avventura per fare questo ti occorreranno degli oggetti che troverai per la strada raccoglili e premendo il tasto di fuoco e muovendo verso il basso potrai sfruttare appieno la loro utilità qui apparirà un menu composto da icone da sinistra in alto e così composto lascia oggetto, salva sul nastro, usa oggetto, gioca, cambia colore inchiostro, esce, cambia colore carta questo è tutto, preparati a combattere eroico difensore della giustizia Grazie a tutti Pubblicato nel 1988 dalla Ocean Software venne rilasciato anche per Commodore 64 e Amstrad CPC Passiamo al quinto dei giochi in elenco Car Attack che in originale trovate con il nome di Hermie Moves A bordo di una jeep dovrai combattere fino alla morte contro le forze nemiche che ti attaccano percorrendo una strada semidistrutta dai bombardamenti dovrai stare attento non solo agli elicotteri che ti vengono incontro o alle jeep nemiche che ti sbarrano la strada ma anche ai punti dove la strada non esiste più Qui, oltre che a sparare sempre, dovrai saltare il pericoloso dirupo altrimenti sai già qual è la tua fine Hai a disposizione dei potenti proiettili anticarro e antiaereo Usali con parsimonia e con estrema mira se vuoi ritornare vittorioso alla base Usa il joystick avanti e indietro per rallentare o accelerare e verso l'alto per saltare gli innumerevoli ostacoli che incontrerai durante la marcia Buona fortuna, eroe! Grazie a tutti Pubblicato nel 1987 da Dynamic Software Venne rilasciato anche per Commodore 64, Amstrad CPC ed MSX E siamo al sesto dei giochi in elenco, Tricky 2, che in originale trovate con il nome di Savage Un eroico e ardimentoso cavaliere è stato incaricato di sconfiggere i demoni e i mostri che insidiano un castello Attraverso numerosi livelli dovrà arrivare al labirinto dove i suddetti mostri e demoni vivono indisturbati Usando le armi a tua disposizione dovrai sconfiggere i guardiani che ti separano dal mostro finale e in un intercalare di colpi su colpi conquistare preziosi bonus che incrementeranno l'energia a disposizione Forza! Combatti fino alla vittoria finale e stai attento che la morte non faccia prevalere la sua perfida mano sul coraggioso cavaliere Grazie a tutti! Pubblicato nel 1988 da Firebird Software venne rilasciato anche per Commodore 64 e Amstrad CPC Passiamo al settimo dei giochi in elenco, FIFA Cup e qui abbiamo la versione Spectrum di Match Day Passiamo al settimo dei giochi in l'enco, FIFA Cup e qui abbiamo la versione di giochi in l'enco, FIFA Cup e qui abbiamo la versione di giochi in l'enco Questo videogame che vi proponiamo è sicuramente il più bel calcio tuttora in circolazione Entusiasmante nella scelta delle squadre, fino a otto diverse formazioni e grafica veramente superba sono le principali qualità che rendono questo calcio unico nel suo genere Tutte le opzioni e le spiegazioni del gioco sono contenute all'interno del videogame stesso in modo tale da rendervi più facile riuscire a comprendere le numerose possibilità di mosse dribbling, tiro eccetera che compongono il gioco Forza ragazzi, cercate di vincere la Coppa e buon divertimento! Pubblicato nel 1984 dalla Ocean Software, venne rilasciato anche per Commodore 64, Amstrad CPC e BBC Micro Passiamo all'ottavo dei giochi in l'elenco, Venus Attack che in originale trovate con il nome di Pulse Warrior La stazione spaziale di Enova Bay è stata invasa da un gruppo di ribelli alieni che hanno intenzione di impadronirsi da questo posto strategico di tutti i convogli di Meresio Nella stazione era in funzione un sistema di allarme che in caso di pericolo doveva avvisare i comandanti delle astronavi ma i ribelli l'hanno smontato nascondendo i singoli congegni nei vari settori e mettendo a loro guardia dei diffusori di scariche elettromagnetiche Mimetizzato all'interno di un carrello portaoggetti dovrai passare per ogni stanza e recuperare i congegni ma attenzione, se verrai in contatto anche con una sola scarica, il congegno di quel settore svanirà Azionando la console del teletrasportatore potrai scegliere il posto in cui andare ma ricorda, più volte passerai da una stanza e più difficile ti sarà recuperare il congegno Grazie a tutti Pubblicato nel 1988 da Mastertronic venne rilasciato anche per Commodore 64 Passiamo al penultimo dei giochi in elenco Fit Underhead che in originale trovate con il nome di Head Over Hills Gino e Pino, due famosi agenti segreti, sono stati inviati nel malefico impero alla ricerca di nuovi ribelli che contribuiscano alla riuscita della rivoluzione già in atto in altri pianeti Purtroppo si ritrovano intrappolati nelle stanze del castello dell'imperatore ed inoltre, come se ciò non bastasse, sono completamente separati Il loro scopo è quindi quello di riuscire, dopo aver superato le varie insidie presenti in molte stanze del castello ad incontrarsi per proseguire in coppia alla ricerca di una via di uscita Molti sono i vantaggi offerti dagli animali magici sparsi per le stanze del castello L'importante è comunque agire d'astuzia e con molta fantasia Due requisiti indispensabili per la riuscita della missione Gino ha la capacità di compiere favolosi salti e di controllare la direzione di ricaduta mentre Pino è molto veloce nella corsa e possiede due robuste spalle capaci di trasportare qualsiasi cosa Usate il teletrasportatore per spostarvi da un pianeta all'altro o all'interno di uno stesso pianeta Ma ricordate che comunque vadano le cose potrete ottenere ottimi risultati giocando di astuzia e sfruttando il vostro ingegno Liberate il popolo dal tiranno e buona fortuna per la vostra missione Pubblicato nel 1987 da Ocean Software Venne rilasciato per Commodore 64, Amstrad CPC, Atari 8-bit, MSX e anche in versione Commodore Plus 4 Andiamo a chiudere anche questo numero 54 con l'ultimo dei giochi in elenco, Last Rescue ovvero la versione Spectrum di Double Dragon Tratto dal famoso Coin Hop, lo scopo principale del gioco è quello di salvare la ragazza dai due protagonisti che in questo caso possono essere due giocatori I nemici che dovrai o dovrete sconfiggere sono tanti e tutti agguerriti Cerca di essere svelto e furbo, non farti sorprendere Colpisci li prima che loro colpiscano te e andando avanti nel gioco arriverai alla fine dove, sorpresa sorpresa, ti attenderà un duello con il tuo compagno d'avventure Vinci, sconfiggi colui che ha diviso con te onori e gloria e sarai l'eroe della storia Buona fortuna! Buona fortuna! Buona fortuna! Pubblicato nel 1989 dalla Melbourne House venne rilasciato per numerosi sistemi Tra cui Commodore 64, Amstrad CPC, Atari 7008, MSX, NES e SIGA Master System Ed è tutto anche per questo numero 54 di Special Program in versione Spectrum 48K Rinnovo ancora una volta l'invito a seguirci sulla nostra pagina Facebook Gameplay Retro Games World dove ogni giorno potete trovare rubriche, dirette live, sondaggi e tanto altro inerente il mondo del retro gaming Ancora un grazie a Giuseppe di Lillo per il numeroso materiale che ci permette di portare avanti le nostre rubriche Concludo augurandovi buon divertimento con i vostri retrosistemi ed emulatori preferiti e vi do appuntamento al prossimo numero di Special Program sempre in versione Spectrum 48K Grazie e arrivederci!